musica e... e lui no? al fa... al fa... al fa come l'anno scorso un'altra volta eh? se chi ha puto è chiuso la DSL stavorda m'ho un culo veramente c'ha quella fregna che gira, funziona, funziona, funziona un cazzo funziona vieno sbocco e c'hai ragione papà, eh? sarà utubuto alla corrente eh la corrente ci... quale me dai? staccia che la capoccia un minuto concentrata oh... ecca no? metti qui ecca no? scatenaccia, scatenaccia c'ha quella cosa che gira appare... eh, vedi? appare la fotografia della porta ma non mi dice che regalo vuole eh? mo... no questa noi che gli mandiamo? che gli mandiamo? che gli mandiamo? un gorbo che sta da spacchi che gli mandiamo? non preoccupatevi miei cari bambini ora andremo a riparare la macchina ma... eh... cambiando questo... eh... le relae stacrocco la macchina di babbo natale tornerà magicamente a funzionare ora... andiamo a prendere il pezzo di... qua... dove stia? papà non lo trovo e mo? un sgommetto che mi ingazzo no no non serve sicuramente l'ho riposto in una di queste... magiche scatoline e tu si perso? no non me lo so perso solo che non sa che dove sta sai dove sta? ma guarda qui ho un taschino magico dove sicuramente l'ho riposto non sta manco io che con tu coglioni che sciogli come mia ero capace a fare un coglione prossimo come te non sarei mai gris ne preoccupate papà o vado a trovare? ah io dove vai a trovarla mi frega un cazzo no? ma non venissi senza perchè sto chiedendo le zampi dell'angolo ti scapi ecco la slitta di natale andiamo a comandare è un fritto niente male sta panna anche l'occhiale questa è caccia anche la sale e ora mi fa affrontare mi sono fatto tanto male correte Elfi del bosco correte so cascato con la slitta ma ci sto diventando matto ci vuole che la ripariamo se no Babbo Natale è messo in c***a ma aiutate? no! no? vabbè beh almeno iutatemi a cercare il rene che se no è un macello eh no! t'anguli la prossima volta e lì chi vieni grazie fino a mica potete affogli beh ma a riparare e riparto c'è due ore che sta lì curgo non so che sta a fare eh dopo quando avvene non gli dai due cinturati no tu non gli dai questi due cinturati eh un figlio stupido è una condanna ecco papà ho comprato era l'ultimo la si fatta fa fattura no? che la scaricamo no cioè mi ha fatto un scontrino ma allora tu sei una grossa testa di c***o fammi capì beh va bene basta non mi insulta sempre c'hai ragione è natale no? che avanzassero le disgrazie a me dammo qua oh pensami che dopo te lo vi accinturate oh ecco oh ora funziona vedi vedi oh ma guarda tu che buona stavotta reparto spedizioni palmiro all'apparecchio che è un po' di pace nel mondo sì mi pare no? e gli dovresti buttare via ah è finita eh allora un carteggi un kit per sporbare un porco e pace è fatta hai il babbo attacca un po' regista un po' dai la stacca a fare gli auguri per i voti i voti ci tengono questi voti a vedere gli auguri gli strigherebbe i voti non li posso vedere dai eh po' sta in diretta buon natale tanti auguri ciao 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 ho finito? ciao